Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Coesione Familiare. Spero dopo la spedirete i vostri contatti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Coesione Familiare perché è bello vedere unita una famiglia giovane e reale. Unita dalla propria omogeneità, convinta che vivere emozioni intense è qualcosa di bello. È bello vedere un padre che adora il figlio, il figlio che rispetta la madre, la madre che lavora affinché la famiglia sia sempre così unita, realizzata, si senta a proprio agio, a viva una propria passione, una forza interna forte tale da far suscitare quell'amore familiare. Fratelli che si aiutano a vicenda, madri e cugini che sorridono, le zie che stanno con i nipoti al parco a giocare con qualcosa di bello, a coesione familiare. Gli zii che sono sempre disponibili per i nipoti e le nonne che regalano sempre emozioni forti come solo loro possono fare perché la nonna ha un grande valore. E bisogna sempre tenerla in considerazione. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Coesione familiare. È bello vedere unita una famiglia giovane e concreta, della propria omogeneità, convinta, che vive emozioni intense. Fratelli che si aiutano a vicenda, madri e cugine che si sorridono. Sarebbe un'accusa orrenda, invece vivere un rapporto freddo. Gli zii con i nonni nel sorriso incontrano la bella realizzazione. La felicità accende il viso e dona una forte emozione. La coesione familiare offre il sacro collegamento vitale e tutta la famiglia unisce sotto forma di una unione esemplare. Grazie, spero la condividerete. Arrivederci.